Strada del Santo Intilte questa mattina all'ora di punta. Poco prima delle 7.30 i vigili del fuoco sono intervenuti al chilometro 16 tra Loreggio e Campo Sampiero per lo scontro, semifrontale tra un'auto e un camion. Ferito l'automobilista. I pompieri di Cittadella intervenuti con i colleghi di Castelfranco e i volontari di Santa Giustina hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale del 118 nel soccorrere l'uomo che era alla guida della vettura. È stato portato in ospedale. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi e la gestione del traffico che ha subito pesanti rallentamenti.